Essere piccoli come i bambini cinti dall'abbraccio di un genitore e capaci di stupirsi delle sorprese di Dio. Nella messa celebrata nello stadio Meshki, tra il piccolo greggio di fedeli della Georgia e alla presenza di diversi fedeli ortodossi, Papa Francesco ha parlato dell'amore infinito del Padre Celeste, al di là del male di cui è capace l'uomo. Pur in mezzo alle vicende turbolente della vita, un cuore semplice, privo di doppiezze, lascia spazio all'opera consolatrice di Dio che ama le sorprese. Quanti invece non fanno filtrare la luce del Signore nella propria esistenza, cedono al pessimismo, alla realtà che mai cambia, scivolando nei sotterranei dell'angoscia. Di qui l'invito del Pontefice a spalancare le porte della consolazione, il Vangelo letto ogni giorno, la preghiera silenziosa, la confessione, l'Eucaristia. E la Chiesa è la casa della consolazione. Pur quando subisce afflizioni e chiusure, ha insistito Papa Bergoglio, il cristiano è sempre chiamato a infondere speranza a chi è rassegnato, a rianimare chi è sfiduciato, a portare la luce di Gesù, il calore della sua presenza e il ristoro del suo perdono. Senza affidarsi ai criteri del funzionalismo e dell'efficienza organizzativa e senza cavalcare la logica del successo mondano, i pastori devono diffondere la misericordia del Signore. Sentiamoci chiamati a questo, ha concluso il Pontefice, non a fossilizzarci in ciò che non va attorno a noi o a rattrestarci per qualche disarmonia che vediamo tra di noi. Non fa bene abituarsi a un microclima ecclesiale chiuso, ci fa bene invece condividere orizzonti ampi e aperti di speranza, vivendo il coraggio umile di aprire le porte e uscire da noi stessi.